Sono le 8.30 quando la Ocean Viking getta l'ancora nel porto di Napoli a bordo 254 migranti, quel che resta dei 439 salvati nel Mediterraneo tra giovedì e venerdì scorsi. Gli altri sono scesi a Vibo Valencia, prima tappa di una navigazione che doveva concludersi a Genova e poi ha virato su Napoli per le cattive condizioni meteo. Non tutti e 254 rimarranno su Napoli perché abbiamo sentito anche la rete delle altre prefetture della regione e verranno distribuiti secondo i criteri che già più o meno erano determinati in altre province.